In questo video parleremo del push up. Il push up è un esercizio fondamentale per la parte alta del corpo, per la muscolatura pettorale, ma anche per il corpo addominale e per le gambe. È un esercizio che fa svolto a terra e adesso vedremo come. Come si può vedere è un esercizio che coinvolge le spalle, il tronco, la muscolatura addominale, glutei e gambe ben attive. E vi sono anche delle diverse varianti in base a come si mettono le mani. Mani più larghe delle spalle, va a lavorare maggiormente il deltoide e il piccolo pettorale. Mani più strette vicino al corpo, come visto prima, lavora maggiormente il tricipite e il grande pettorale. Andiamo a vedere adesso gli errori che si possono commettere nel push up. Un errore da non commettere è appunto questo, ovvero non contrarre simultaneamente la muscolatura della zona addominale, delle gambe e dei glutei, ma fare il cosiddetto push up a serpente. fare in modo corretto e questo lo sono corretto. Un altro errore da non commettere è mettere in modo simmetrico le mani. Questo è un errore, infatti si va a lavorare in modo asimmetrico con la muscolatura e può creare dei problemi. Farò vedere in modo corretto. Così va bene. Sono pochi aminoacidi in polvere a riuscire a mantenere un'elevata solubilità e un gusto gradevole. Con Instant Extreme BCA, 4 Plus Nutrition ha ottenuto una polvere ultra fine e senza nessuna alterazione organolettica. Oltre a garantire i vantaggi degli aminoacidi armificati, il rapporto 811 contiene anche le vitamine del gruppo B e l'acido folico, un prodotto molto più completo di un semplice BCA.